Buongiorno a tutti, sono Lara Roma, responsabile commerciale di Fly Dubai in Italia, presso Avia Repsi GSA di Fly Dubai. Qual è la novità del 2023? La novità sono ben due, il nostro volo da Milano-Bergamo e il volo da Cagliari per Dubai e via Dubai per tutto il network di Fly Dubai, oltre 113 destino. E qual è il nuovo mercato che avete aperto nel 2023? La novità del 2023 è la Thailandia, abbiamo aperto a gennaio le rotte su Pattaya e su Cagli, con due voli giornalieri da domani. Grazie mille!